e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video vi ricordo di lasciare un bel like e buona visione oggi dopo tantissimo tempo siamo tornati su questa modalità di Roblox grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vediamo se riusciamo a raggiungere un'altra nuova isola grazie a tutti 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 grazie a tutti